Ben ritrovati con Milano Pavia News edizione giorno in apertura la cronaca con un'importante operazione condotta dalle forze dell'ordine, la squadra mobile di Roma e la squadra mobile di Milano in collaborazione hanno arrestato nel capoluogo Lombardo in queste ore il latitante Antonino Calì, un ricercato sul quale pendeva una condanna di quasi 30 anni. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una carriera criminale consistente iniziata già nel 1998, traffico di stupefacenti, affiliazione con associazioni a delinquere come i Casamonica e il noto clan camorristico dei Pagnozzi, reati contro il patrimonio, frode, ricettazione, possesso di armi clandestine fino ad arrivare a 20 anni dopo quando nel 2018 agli arresti domiciliari Antonino Calì manomette il braccialetto elettronico che gli era stato applicato ed evade dalla detenzione domiciliare facendo perdere le sue tracce. Questo fino alla mattinata di mercoledì 21 aprile quando gli agenti della squadra mobile di Milano lo hanno tratto in arresto in quanto ricercato destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione per il quale deve scontare la pena di 29 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione. Dopo un excursus delinquenziale e prolungato di spessore Antonino Calì è stato arrestato l'ultima volta nel 2013 all'esito di un'indagine nei confronti di un'associazione operante in varie attività illecite tra le quali il traffico, lo spaccio di sostanze stupefacenti, le istorsioni, i reati contro la persona, il riciclaggio e il reimpiego di risorse economiche di provenienza illecita in attività imprenditoriali. Dopo un periodo custodiale in carcere in alternativa a detta misura nel mese di maggio 2018 aveva ottenuto la concessione degli arresti domiciliari, il 3 ottobre 2018 però aveva deciso di darsi alla fuga. Da allora si era reso irreperibile finché nel 2020 le indagini della squadra mobile di Roma lo localizzavano in Spagna, precisamente a Valencia. Recentemente però l'attività investigativa aveva registrato il suo spostamento dalla penisola iberica al paese natio, precisamente a Milano, ed è così che sono iniziati i riscontri della sua presenza in città finché il cerchio non si è ristretto alla zona di Porta Venezia, individuando il possibile l'appartamento in via Paolo Frisi. Gli agenti della squadra mobile hanno allora cominciato dei servizi di osservazione ininterrotti per due giorni, appostandosi in una terrazza che affacciava dall'alto sul cortile con l'ausilio di telecamere e binocoli, fino a quando nella mattinata del 21 aprile vedono un uomo dalle sembianze simile al ricercato uscire dal condominio e dirigersi a piedi verso la metropolitana. Gli agenti iniziano a pedinarlo e una volta accertata l'identità lo fermano prima della fermata della metro. Lì l'uomo, una volta resosi conto di trovarsi di fronte alle forze dell'ordine, ha subito esclamato «Sono io, Antonino Calì». Con sé aveva un documento falso, nello specifico una carta d'identità valida per l'espatrio, deteneva 1200 euro in contanti e documentazione aerea comprovante il suo arrivo da Valencia. La pagina dell'emergenza sanitaria adesso, come abbiamo ricordato in questi giorni, da lunedì 26 aprile, nuove aperture con il passaggio in zona gialla, tra le principali novità, la riapertura dei ristoranti all'aperto, un nuovo incremento degli studenti in aula, ma non solo, allora per le notizie e le ultime novità andiamo a collegarci con Giussi Chiricò. Giussi, una riapertura accompagnata come sempre dalle polemiche, per esempio quella riguardante il coprifuoco mantenuto alle 22. Esatto, Mario, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, dal 26 aprile si aprirà una nuova pagina per il nostro paese, soprattutto per la regione Lombardia, perché le nuove regole, le nuove restrizioni verranno meno solo se si è in zona gialla. E proprio per la Lombardia il 26 aprile potrebbe essere una data cruciale, perché i numeri ci sono, i dati sono in continua diminuzione, per cui la Lombardia dal 26 aprile dovrebbe entrare in zona gialla e quindi dovrebbe sposare tutte quelle che sono le nuove regole del nuovo DPCM firmato dal presidente Mario Draghi, che appunto avrà inizio il lunedì 26 aprile. Andiamo a vedere quali saranno le principali riaperture, le principali novità di questo nuovo DPCM, ritorna appunto le zone gialle, come dicevo prima, perché finora erano state totalmente abolite, ci sarà un cambiamento anche per lo spostamento tra le regioni, infatti tra le zone gialle si potrà spostare tranquillamente e chi è in zona gialla dovrà spostarsi in regioni di altro colore potrà farlo attraverso un green pass. Tra gli altri colori appunto servirà questo pass che avremo i maggiori dettagli nel servizio di questa sera. Il coprifuoco è come dicevi tu una delle tante polemiche in atto, ovvero resta il coprifuoco almeno per adesso, è stato dichiarato che fino al 31 luglio il coprifuoco rimarrà dalle 22 fino alle 5 del mattino. Chiaramente il ministro Speranza ha precisato che per adesso partiamo così poi si vedrà se allentarlo o meno. Un'altra novità come citavi anche tu, i ristoratori potranno riaprire sia a pranzo che a cena naturalmente in zona gialla e a cena e a pranzo soltanto all'esterno, nei dehors esterni dei propri locali. Aprono teatri, cinema e spettacoli all'aperto, si potrà assistere agli spettacoli al chiuso con una capienza massima al 50%, sarà consentito anche lo sport sempre all'aperto perché le palestre potranno riaprire solo dal primo giugno. Le scuole superiori dopo l'incontro anche tra il governo e le regioni si è arrivato ad un accordo con la presenza non più al 100% ma al 50-60%, su questo ancora il DPCM è poco chiaro e in Lombardia le quinte riusciranno, ritorneranno nelle proprie aule e la maturità soprattutto sarà totalmente in presenza. Come dicevo prima, il primo giugno ci sarà la riapertura delle palestre in zona gialla, il 15 maggio riapriranno le piscine e poi infine dal 15 giugno si darà il via anche alle fiere. Per adesso è tutto, ci risentiamo tra poco Mario. Grazie Giusy per questo punto, 5 milioni di mascherine e circa 2 milioni di dispositivi medici tra cui termometri e saturimetri sequestrati dai finanzieri di Milano nell'ambito di un'operazione che ha portato a scoprire una maxifrode in commercio posta in essere da una donna cinese avente la disponibilità senza alcun titolo di un ingentissimo quantitativo di mascherine, operazione di questa mattina, mascherine dal tipo chirurgico all'FFP3, nonché di altri dispositivi medici stoccati in un deposito clandestino affittato in nero da un italiano nei pressi della stazione centrale di Milano. Le indagini condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno permesso di accertare che la donna, nulla tenente e priva di impiego, faceva accedere al magazzino e cedeva scatoloni contenenti, mascherine e a diversi soggetti, ovviamente la notizia di queste ultime ore che approfondiremo nelle prossime edizioni. Restiamo sulle notizie riguardanti dell'emergenza sanitaria, buone notizie perché si abbassa la pressione sugli ospedali della provincia di Pavia, stando i numeri delle ultime settimane, andiamo a collegarci proprio dal Policlinico San Matteo dove per noi c'è Luca Pattarini. Luca. Sì, buongiorno Mario, buongiorno ai nostri telespettatori, lo dicevi tu, un calo generalizzato, va ricordato che le situazioni nei vari ospedali poi sono diverse per quanto riguarda i numeri e per quanto riguarda la permanenza dei pazienti nei reparti, ma a livello regionale vediamo che c'è questo calo piuttosto netto anche se vogliamo e c'è un calo ovviamente anche qui al San Matteo. Per capirci nella giornata di ieri erano 138 i pazienti ricoverati di cui 32 in terapia intensiva, 6 in assistenza respiratoria e 100 invece in degenza ordinaria. Nelle 24 ore ci sono stati sì 5 nuovi ricoveri ma soprattutto ci sono stati 14 pazienti dimessi e questo calo dei pazienti nei reparti, ci hanno spiegato i medici ovviamente è un po' più lento rispetto per capirci all'accesso al pronto soccorso, il pronto soccorso può monitorare prima quello che può essere l'andamento della curva, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, essendosi dimezzato in sostanza il carico e gli accessi dei pazienti al pronto soccorso, pian piano anche i reparti scenderanno, si spera continueranno a scendere anche nei prossimi giorni. Noi ci troviamo tra l'altro Mario all'ingresso del reparto di pediatria, qui si è tenuta una conferenza di cui parleremo tra poco, qui sono ricoverati al momento due bambini per Covid ma come ci ha spiegato il primario il professor Marseglia si tratta ovviamente di ricoveri prudenziali, sappiamo che nei bambini il Covid non ha fortunatamente gli stessi effetti che ha negli adulti, di fatto due bambini come ci spiegava il professore che sono ricoverati appunto in via precauzionale per così dire, per tenere monitorate le loro situazioni, ci sono stati casi di Covid abbastanza grave per bambini ma si trattava di bambini che purtroppo avevano altre patologie per le quali il Covid insomma consisteva in un problema in più da affrontare. Per il momento però Mario è tutto, ti restituisco la linea, poi torniamo a collegarci proprio per parlare della conferenza stampa che si è chiusa pochi minuti fa. Sì Luca, di un bel progetto di pediatria del San Matteo, adesso torniamo però a parlare anche delle RSA al centro di questa lunga emergenza con numerosi focolai, tantissimi decessi tra i nostri anziani, i sindacati chiedono una riforma per renderli tra l'altro più sicuri. Rinnovare le RSA per renderle luoghi di residenza aperti oltre che più sicuri per gli ospiti, obbligare il sistema sanitario nazionale a coprire almeno il 50% delle rette, oggi per molte famiglie insostenibili e garantire più formazione per il personale. In provincia si parla di quasi 5.000 lavoratori in questo settore a fronte di circa 6.000 anziani ospiti. Non da ultimo, come ha insegnato la pandemia, garantire incontri con i familiari in condizione di sicurezza qualunque cosa accada. Sono le richieste lanciate dai sindacati CGL e CISLEUIL con la raccolta firme per chiedere a Regioni e Governo una profonda revisione delle residenze sanitarie assistenziali. Nella riforma della legge regionale sanità oggi manca la RSA. Noi pertanto chiediamo che quando si discuterà di riforma bisognerà assolutamente inserire le RSA nell'ambito della riforma. La RSA deve rinnovarsi, deve modificarsi, deve permettere agli ospiti di vivere una serena anzianità e non essere dei finti e delle brutte fotocopie di reparte degli ospedali. La raccolta di firme è aperta a tutti i cittadini perché tutti hanno problemi legati a questa questione. In più noi chiediamo anche una legge per la non autosufficienza. Un'importante conquista sarebbe quella di modificare il sistema oggi che viene in aiuto agli ospiti e alle famiglie degli ospiti. La non autosufficienza è un problema che va affrontato collettivamente. Vuol dire avere risorse a disposizione, vuol dire non caricare quando c'è una piccola difficoltà sulle famiglie o sull'ospite, ma significa essere in grado come Stato e poi come Regione di affrontare il costo. Centrale in questa ripartenza sarà il ruolo delle scuole, soprattutto per il tema dei focolai e di nuovi contagi. L'annuncio del Presidente di Regione Lombardia a Fontana dell'escorsione da maggio in tutto il territorio regionale. Verranno utilizzati i test salivari molecolari. Ce ne parla Giussi, che ricordo a cui torniamo a Milano. Rieccoci Mario, hai detto bene. Nel primo collegamento abbiamo detto che cruciale sarà il rientro a scuola degli studenti lombardi e chiaramente milanesi e l'annuncio di ieri di Fontana è stato anche abbastanza importante perché saremo la prima regione che utilizzerà i test salivari molecolari all'interno delle scuole. Questo sarà uno strumento estremamente importante per il tracciamento dei contagiati all'interno delle scuole. Ieri anche in Commissione Sanità Pavesi ha dichiarato che questo strumento, ovvero dei tamponi salivari molecolari, potrebbe essere uno strumento importante da utilizzare non solo nell'ambito scolastico, potrebbe essere utilizzato anche in altri settori, anche in altri ambiti. Questo spieghiamo che i test tamponi salivari derivano da una ricerca fatta dall'Università degli Studi di Milano, da un approfondimento fatto appunto dall'Università e proprio il preside della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano ha dichiarato quanto è importante appunto l'operazione di questi test salivari molecolari. Quindi lanciamo adesso la dichiarazione di Vincenzo Zuccotti, appunto il preside della Facoltà di Medicina. Devo dire che Regione Lombardia, prima regione in Italia, ha sdoganato questo test salivare molecolare e con Regione stiamo ragionando e discutendo da qualche mese. All'inizio di quest'anno insieme a Regione avevamo sottoposto al Ministero questa richiesta, quella di riconoscere questo test in maniera ufficiale, in modo da poterlo utilizzare e introdurre almeno all'interno delle scuole. Noi poi pensiamo e speriamo che possa diventare anche utile per altre situazioni, che possa, non dico sostituire, ma almeno alternare o essere un valido competitor o una valida alternativa al nasofaringio molecolare. Quindi con questa notizia del Presidente Fontana, da maggio Regione Lombardia comincerà a proporre questo test molecolare, almeno come diceva lei, all'interno delle scuole. Torniamo come promesso al Policlinico San Matteo, dove per noi c'è Luca Pattarini che ha seguito una conferenza stampa, una bella iniziativa per i piccoli ricoverati del reparto di pediatria. Luca? Sì Mario, un bel progetto di Abio Pavia, un'associazione di volontariato che si occupa proprio di alleviare quelle che sono le sofferenze dei bambini che sono ricoverati qui in pediatria. Ovviamente si tratta di un'associazione di volontariato che prima faceva queste attività in presenza, adesso sappiamo che il Covid è tutto molto più difficile. Per ovviare proprio questa mancanza dei volontari nel reparto di pediatria del San Matteo, Abio ha deciso di realizzare dei kit divisi per fasce di età e per genere, per i bambini e per le bambine, da donare proprio ai pazienti ricoverati. Sono kit al cui interno ci sono dei libri, ci sono dei giocattoli, ci sono anche dei piccoli oggetti utili per la vita di tutti i giorni, lo spazzolino al dentifricio, che vengono appunto regalati ai bambini che vengono qui ricoverati in pediatria. Un'iniziativa, una bella iniziativa che è stata resa possibile grazie anche ai contributi di tante associazioni, di tanti benefattori che hanno voluto aiutare Abio Pavia, un'iniziativa ovviamente accolta con entusiasmo qui al reparto di pediatria perché si sa quanto sia difficile lavorare con bambini malati e quanto sia complicato anche emotivamente per gli operatori insomma a dover assistere a questi bimbi. I kit verranno distribuiti proprio dagli infermieri e dai medici della pediatria per cercare di dare un momento anche di relax, un momento di svago, di spensieratezza per questi bimbi. Una bellissima iniziativa, Abio ha confermato che quando si potrà ovviamente le attività riprenderanno in presenza e speriamo tutti ovviamente che questo avvenga il prima possibile. Per il momento Mario è tutto da San Matteo, ti restituisco la linea. Grazie Luca, noi voltiamo decisamente pagina, sono settimane di fibrillazione per il mondo della vino in Oltrepo Pavesi e non solo per il rilancio del centro di ricca gioia. L'ultima notizia è che la cantina di Canneto è pronta a guardare al nord Europa. Da luglio sugli scaffali di oltre 200 negozi della Norvegia ci sarà un altro vino dell'Oltrepo, più precisamente una barbera a indicazione geografica IGT. Notizia interessante per il territorio e ancora di più perché ad aggiudicarsi la call del monopolio scandinavo non è stata un'azienda qualunque, bensì la cantina cooperativa di Canneto Pavese. La stessa che con i suoi 150 agricoltori soci sta cercando faticosamente di rialzarsi da un anno, il 2020, a dir poco in fausto. Iniziato con l'inchiesta non ancora conclusa che aveva portato all'arresto di 5 persone fra cui i vertici della stessa azienda con l'accusa di frode in commercio e contraffazione, l'anno orribile è proseguito come per tutti, del resto con lo scoppio della pandemia che ha inflitto pesanti perdite anche a questo settore. A Canneto però dove assicurano nonostante il clamore dell'inchiesta giudiziaria non sarebbe stata sequestrata una sola bottiglia di vino, c'è voglia di ripartire come testimonia la commessa appena ottenuta in nord Europa. Abbiamo incontrato il nuovo presidente Gianni Rossi per fare il punto su questo importante polo vitivinicolo dell'Oltrepo, nato esattamente 60 anni fa. Tra Covid e ma soprattutto le indagini che ci ha colpito, un'annata molto difficile, tutto in salita. Vogliamo che si scopra cosa è successo e venga alla luce la verità. Si sta lavorando tutti, consiglio di amministrazione, consulenti e quant'altro, come si suol dire, a pedalare in salita, ma a pedalare forte per cercare di rilanciare questo glorioso marchio. Dal 2 luglio saremo su 240 piattaforme dello Stato norvegese con questa barbera che ci fa molto onore, molto gloria, perché comunque è un bel prodotto. Tra i temi più discussi tra gli agricoltori soci, quello del mancato pagamento delle uve conferite nella vendemia 2019, per il quale però è stato sottoscritto un accordo che prevede la direzione in 5 anni a partire dall'anno prossimo del saldo. Abbiamo chiesto in assemblea e ricevuto il voto di fiducia, quindi di favore, di diluire questa vendemia 2019 in 5 anni. Quindi da marzo dell'anno prossimo si inizierà a ripagare la vendemia 2019, non in un anno ovviamente, ma in 5. La rinascita della COP, secondo quanto riferito dal neopresidente e dal direttore Carlo Torazza, si basa su un aumento della qualità media, sul restyling del marchio e su nuove linee di vini che stanno per entrare sul mercato. Siamo pronti con una linea nuova, importante per il settore eureka, che ci può permettere secondo me di rilanciare sia questa cantina che soprattutto il territorio. C'è un territorio che fa ancora un po' fatica a dialogare, nonostante tutte queste prove, secondo lei? Io ritengo che questo anno ci sia servito a tutti, effettivamente, per metterci secondo me intorno a un tavolo e rilanciare fortemente a gran voce queste realtà, questo territorio, questi prodotti che, ribadisco e continuo a dirlo, sono una perla assoluta a livello nazionale. La politica adesso a tenere banco le elezioni comunali di Milano e la possibile sfida tra Sala e Albertini che sta facendo molto discutere in città. Uno a uno e palla al centro. Ufficialmente Gabriele Albertini non è il candidato del centrodestra e forse non lo sarà mai, ma il fascino di una potenziale sfida tra due ex sindaci non lascia indifferenti le parti politiche che hanno quindi cominciato a sfidarsi a colpi di sondaggi. A poche ore dalle prime indiscrezioni che volevano Albertini come sfidante di Beppe Sala era infatti emerso un sondaggio targato eometra e commissionato da ambienti vicini al centrodestra. Il risultato? In un ipotetico ballottaggio, Albertini si sarebbe affermato su Sala con uno scarto di un punto percentuale. L'ultimo sondaggio in ordine di tempo però ribalta il risultato e lo fa in modo spettacolare. Si tratta di un'indagine commissionata dal parlamentare di Italia Viva Gianfranco Librandi che a Milano promuove una lista a sostegno di Beppe Sala. Secondo Ipsos, l'istituto guidato da Nando Pagnoncelli, Sala batterrebbe Albertini con un margine ampio compreso tra gli 8 e i 16 punti percentuali. L'attuale primo cittadino si piazzerebbe infatti tra il 54 e il 58%, lasciando l'ex sindaco tra il 42 e il 46%. Un divario che, sempre secondo Ipsos, addirittura salirebbe a quasi 20 punti percentuali se lo sfidante del centrodestra dovesse essere il parlamentare di Noi con l'Italia ed ex ministro Maurizio Lupi. Il sondaggio registra inoltre un giudizio sostanzialmente positivo dei milanesi sull'amministrazione Sala. Il 42% assegna una sufficienza mentre il 25% arriva fino all'ottimo. E anche sull'emergenza i cittadini si esprimono a favore dell'attuale inquilino di Palazzo Marino. La qualità della vita a Milano, nonostante l'emergenza Covid, è da 7. Nonostante quest'ultimo sondaggio e in attesa dei prossimi, che certamente non mancheranno di arrivare, il centrodestra continua il corteggiamento nei confronti di Albertini. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha affermato di rimpiangere i tempi dell'ex sindaco e di sperare che accetti la candidatura a Milano. La decisione, ha concluso Salvini, è prevista per maggio. E di politica si parla anche Pavia con polemiche da parte di Italia Viva nei confronti dell'attuale sindaco Fabrizio Fracassi per la gestione della città, in particolare delle fasce più deboli della popolazione. Aprire le finestre ancora murate nell'ufficio del sindaco per vedere i problemi reali della città è la provocazione di Italia Viva per stimolare l'azione amministrativa del sindaco Fracassi. Da quelle finestre chiuse, ha spiegato Marco Anselmetti, il primo cittadino potrebbe vedere la mensa dei frati di Canepanova e il dramma di numerosi concittadini. È un limite di tutte, in qualche maniera, le persone che hanno occupato quello studio. Non è un limite personale, è un limite fisico, costituito da queste finestre, finestre murate che non danno verso una vista in qualche maniera, potremmo dire, più reale di quella che è la città o almeno di una parte consistente della città attuale. Aperte quelle finestre il sindaco si potrebbe affacciare e vedere la parte laterale del convento dei Francescani di Canepanova, una delle aree dove tanti si rivolgono per poter avere un aiuto, soprattutto di questi tempi. Ed è un aiuto, mi creda, non limitato a delle persone in qualche maniera con dei forti disagi. È un aiuto che a questo punto si rivolge a tantissime persone che mai, mai avrebbero pensato di dover ricorrere a un aiuto da parte di strutture così destinate alla carità. Non è una città per poveri il capoluogo, come fatto intendere da Italia Viva, una crisi acuita dall'emergenza Covid. È per questo che vorremmo che in qualche maniera provocatariamente, adesso che ci sono lavori di ristrutturazione del comune, si aprissero queste finestre. Aprissero per poter dire c'è uno sguardo appassionato da parte del sindaco su questi bisogni. È questo che noi vorremmo e su cui insistiamo che l'azione del comune si rivolga. Insomma servono politiche sociali più incisive, secondo Italia Viva, per uscire da questa situazione emergenziale. Il bilancio del comune è inattivo e ci sono una serie di risorse che non sono state spese. Allora è possibile che non ci sia un'attenzione verso chi nasce in questa città, magari in condizioni meno favorevoli di altre, meno favorite di altre. Guardate, sono tanti a nostro avviso i settori. Uno, l'ultimo, il caso della piscina, dell'ex piscina, così che abbiamo vicino al gasometro. Verrà abbattuta, verranno costruiti degli edifici verosimilmente e per carità è una situazione che in questo momento non possiamo trascurare. È in stato di abbandono, sicuramente una soluzione porta un beneficio per la città. Ma quello era un impianto costruito negli anni 60 perché ci potesse essere un approccio sportivo anche per le persone meno ambienti. Qual è la politica comunale in questo senso? Se io sono un ragazzo, un giovane e non ho tante disponibilità economiche, oggi dove vado a fare sport? Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di giornata alle 17 a 2x2, alle 18 linea attualità e poi come di consueto a seguire le edizioni dei nostri telegiornali.